squilibri gioco in scatola della mb del 1989 un gioco di strategia descriveremo solo il contenuto della scatola per i collezionisti quindi niente regole e niente istruzioni iniziamo con la scatola superiore un libretto di istruzioni la rappresentazione di una ragnatela in plastica con relativi supporti per tenerla in piedi i supporti hanno ognuno dei piedini in gomma e sulla ragnatela andranno degli adesivi che poi andremo a vedere meglio i posti degli adesivi si sono indicati in modo chiaro con delle g per il green e delle o per l'orange un foglietto di adesivi che non si trova sempre perché essendo un gioco probabilmente usato è stato utilizzato ma qui possiamo vedere i due marchi questa sono le parti che si utilizzeranno per il nido e qui sono già state staccate come abbiamo visto prima ma soprattutto questi sono difficilissime da trovare qui ci sono le parti che andranno dei triangolini lunghi ecco si vedono adesso in trasparenza in si riflettono triangolini lunghi che andranno attaccati soltanto per bellezza ai vari ragni che vari ragni del gioco sei ragni tre arancioni e tre verdi e due ragni detti gamba lunga perché hanno delle zampe più lunghe dei ragni qui possiamo vedere con chiaramente come in alcuni manchino questi triangolini che ripeto sono solo per bellezza nei verdi ci sono tutti ma sono praticamente difficilissimi da trovare nelle scatole perché si staccano gli adesivo l'adesivo non era all'altezza il contrasto fra plastica e carta non li faceva aderire bene quindi i triangoli che avevamo visto qui e qui nella nell'adesivo andranno sulle schiene dei ragni gli altri adesivi andranno qui qui e qui per tutte e due le parti aiutandosi con le o per l'arancione con le g per il verde completano il gioco il sottovuoto giallo e il fondo della scatola il gioco prevede una specifica in uno specifico posizionamento dei ragni così come in questo modo sono diverse perché i nidi sono in posizioni diverse uno qui uno qui questi per i verdi lo schermo è diviso in due e si può giocare naturalmente soltanto in due una volta posizionati i ragni si decide chi inizia a giocare e il primo eseguirà soltanto un movimento e poi dopo tutte le mosse saranno di due movimenti lo scopo del gioco è quello di fare cadere spingendo le zampe posizionate far cadere tutti i ragni dell'avversario le mosse si eseguono spostando una zampa verso o questo in questo caso perché negli altri non arriva o in questo buco o in quest'altro buco questo nodo della ragnatela ovviamente gamba lunga che ha le gambe più lunghe può fare passi più lunghi di due buchi quando uno dei ragni riesce a togliere la zampa di un altro ragno il ragno in questione si chiama squilibrato per il gioco e se con un'altra gamba perché non si può muovere due volte la stessa gamba si riesce a far saltare anche l'ultima del ragno cade ed è eliminato dal gioco vince ovviamente chi elimina tutti quanti i ragni avversari oppure se alla fine rimangono un ragno per squadra a chi riesce per primo a mettere o eliminare facendo cadere il ragno o per primo a mettere una zampa nel nido avversario in questo caso se i verdi riescono ad arrivare al nido arancione squilibri gioco di società della MB del 1989 se vi è piaciuto iscrivetevi grazie ciao grazie a tutti grazie해 grazie a tutti Grazie per la visione!